Siamo in una parte della campagna bellissima vicino a Siena, è Valiano, questa fattoria storica che ha una grossa produzione di vino e incontriamo Padre Matteo. Perché incontriamo Padre Matteo? Perché oggi è stato organizzato qui a Valiano un incontro per fare un'analisi su quello che è un po' gli eventi e le cose che accadono in Terra Santa, anche perché Padre Matteo, come ci racconterà, è una persona che è custode in Toscana della Terra Santa. Allora, traduciamo queste cose. Sì, allora un po' il nostro compito di Francescani è quello a nome del Papa di custodire i luoghi santi di Gesù in Terra Santa, a Gerusalemme, a Betlemme, nei santuari di quella zona. e nostra opera è proprio quella di custodire i santuari, ma anche le pietre vive, le comunità cristiane e quei loro bisogni che sono sempre maggiori, vista anche la situazione politica, che si aggrava sempre di più. Quindi, ecco, questo evento diventa per noi l'occasione per sensibilizzare ai bisogni della comunità cristiana locale, ma anche dell'opera dei Francescani in quel luogo. A Betlemme. A Betlemme, in modo particolare a Betlemme, dove il cristianesimo è nato e dove non solo c'è il luogo dove Gesù è nato, ma c'è anche poi una comunità intorno a questo luogo. Quindi praticamente l'ordine dei Francescani è quello che sovrintende, giusto? È quello che sovrintende o meglio custodisce. Custodisce i luoghi e accoglie i pellegrini, che sono tanti, e poi è anche impegnato nella custodia dei cristiani, che sono le pietre vive della terra. Per cui praticamente questo frazionamento a livello territoriale serve per tenere questo rapporto, questo col dono umbilicale e poi con Gerusalemme, dove praticamente poi organizzate i vari pellegrinaggi o progetti di supporto e sviluppo in loco. Per noi Francescani la custodia della Terra Santa è la prima missione. Per questo motivo in ogni regione, in ogni provincia religiosa c'è un frate incaricato di rappresentare la custodia di Terra Santa nel proprio territorio e quindi di intessere relazioni con chi vive in quel territorio. Questo è stato un po' Papa Francesco a voler maggiormente questa attenzione? Allora, questa attenzione forte è secolare dal 1300, rilanciata in modo particolare da San Paolo VI e Papa Francesco con la sua opera di visita ma anche di sprono spirituale e forte ci richiama a porre sempre maggiore attenzione a queste comunità e a questa realtà così preziosa. Lei quante volte è stato? È una trentina di volte in questi anni, a volte accompagnando pellegrini che sono sempre di più che chiedono di poter visitare e toccare con le proprie mani queste pietre, questi santuari ma anche di incontrare la comunità cristiana e a volte da solo o con dei miei collaboratori proprio per visitare i progetti di sviluppo e sostegno in particolar modo a Betlemme. Ecco, ora sentiamo Vincenzo che è uno dell'organizzazione che vive a Betlemme, giusto? Allora Vincenzo, innanzitutto una curiosità, lì siete un po' su una polveriera, no? Siamo in un bel posto, siamo in un posto importante per la storia e per l'umanità. La terra santa è sempre stata il centro del mondo, Gerusalemme in particolare sia nella storia che oggi e Betlemme appunto li abbiamo, ho avuto io personalmente, dove ho costruito anche la mia famiglia l'opportunità di vivere e servire questa terra. È una terra che certamente è una terra che oggi vive un grosso conflitto, un lungo conflitto, un conflitto molto... Non è mai smesso. Il conflitto non è mai terminato, è sempre stata una guerra al centro dell'attenzione del mondo per il ruolo importante che ha avuto nella storia e anche nelle religioni. Però è una terra dove vivono delle persone, delle comunità e di una terra a cui noi come occidentali, cristiani, siamo culturalmente e religiosamente legati, quindi per noi è un luogo molto importante. Però sulle reportage che vediamo nei telegiornali o anche in altre trasmissioni, insomma, bisogna stare un po' attenti, non è che lì c'è una calma e una pace totale, no? In questo momento la terra santa è un luogo di pellegrinaggi, ci sono tanti pellegrini che possono venire. È vero che c'è un conflitto che dura da tanto tempo, ma è pur vero che ci sono questi lunghi momenti, anche il conflitto è più politico, di dialogo, violento nelle parole, ma invece nella quotidianità la gente purtroppo vive il disagio del conflitto, ma per i pellegrini, per i visitatori, per i viaggiatori non c'è mai stato un problema legato al conflitto. È vero che molto spesso finiamo in televisione per le questioni legate a Gaza, per gli attacchi a Gerusalemme, ma dietro un piccolo attacco o dei segni importanti c'è comunque una grande normalità di persone che cerca di vivere una vita regolare e di essere testimone della propria terra. Come fanno a coesistere tutte le religioni a Gerusalemme? Proprio coesistono, il modello della coesistenza è un modello consolidato in Medio Oriente da secoli, che è proprio quello di avere spazi suddivisi dove ogni confessione religiosa può trovare la sua aggregazione, la sua vita sociale e privata, però questa coesistenza ha dei punti di contatto, che sono il SUC, che sono alcuni luoghi precisi. Allora, il modello della coesistenza è proprio tipico, è un modello che è un po' minacciato dagli eventi contemporanei perché mette in crisi questa separazione di spazi e quindi crea un mescolamento, una confusione che non sempre è possibile poi gestire, crea tensione. Allora, un suggerimento per chi vuole andare a vedere luoghi sacri? Beh, innanzitutto, questo è più bravo il commissario, che lui ha la missione delle PRO, sicuramente non è solo una visita che si fa ai luoghi, ma oggi i luoghi sacri sono ancora, nella maggior parte dei casi, luoghi vivi dove ci sono delle comunità, quindi non è un viaggio solo dove si va a sperimentare, a toccare con mano l'archeologia di una storia che ci appartiene, una storia che è nostra, perché noi da lì proveniamo e lì siamo nati spiritualmente, anche culturalmente, se vogliamo, basta pensare alla regione in modo più ampio, ma c'è anche una comunità viva che ha bisogno del nostro sostegno, che ha bisogno della nostra vicinanza in un momento così difficile della storia. Allora, Padre Matteo, vogliamo iniziare la serata? Certo, iniziamo la serata e presenteremo un progetto di partecipazione attiva alla nostra missione di Francescani a Betlemme. Bene, allora andiamo all'interno della villa di Valiano. Bene, ora ascoltiamo Martina Piccini, che è la padrona di casa, per cui è anche quella che ha generato questo evento, e un momento bello, un momento nel quale poi assisteremo a quelle che sono le dichiarazioni sia di Padre Matteo che di l'altro che abita a Gerusalemme e di questo progetto. Allora Martina, com'è nato il tutto? Il tutto è nato perché io ho conosciuto Padre Matteo, mi sono ritrovato veramente, letteralmente, un giorno qui a casa e lui ha chiesto il mio aiuto in questo progetto. Io non ho potuto dirgli di no e ho detto, vabbè, io faccio il possibile, poi l'impossibile lo fa Dio e quindi insieme speriamo che si possa raggiungere l'obiettivo che lui sia prefisso per poter dare una mano a questa terra che non è la terra lontana, ma è una terra di tutti. Terra di tutti, per cui c'è anche un po' l'invito ad andare a fare un pellegraggio, no? Quello sicuramente, anzi credo che dopo questo incontro Padre Matteo ci proporrà di andare proprio a toccare con vicino la realtà che a noi ancora non ci sembra davvero appunto lontana, ma invece dovremo comunque conoscere per poi portare questo messaggio che è il messaggio di salvaguardare quello che sono le nostre radici che indipendentemente dal credo che uno ha fa parte del nostro bagaglio culturale. Per me non è un bagaglio culturale, per me è proprio una questione di una chiamata e di un incontro che ho avuto un po' di tempo fa con un uomo Dio che ha cambiato e stravolto completamente la mia vita. Allora, Martina Piccini, chiaramente stiamo attendendo l'ultimo arrivo e poi iniziamo l'evento. Bene, allora buona serata a tutti e grazie ancora. Volevo innanzitutto ringraziare la famiglia Piccini che ci dà questa opportunità di poter raccontarvi qualcosa che ha creato un contesto piacevole e familiare per poter comunicare, che è la base di ogni cosa. Se non abbiamo un contesto positivo non riusciamo a comunicare bene e nemmeno le cose belle. Ecco, in seconda battuta grazie a voi che siete qui e che avete accolto questo invito e dentro questo invito vogliamo raccontarvi brevemente un po' quello che facciamo. Come francescani innanzitutto, noi francescani abbiamo una grande missione a nome della Chiesa, che è una missione secolare che ha 800 anni, che è quella di custodire a nome della cristianità i luoghi santi di Gesù. Quindi a Gerusalemme, Betlemme ed intorni, Nazareth, i frati francescani con San Francesco partirono proprio nel 1219 per vedere questi luoghi e poi imparare a custodirli e poi accompagnare pellegrini in questi viaggi che già dal Medioevo c'erano. Ecco, quindi la nostra opera proprio di Francescani, questa terra è fondamentale, che però non si ferma solo nel custodire luoghi, non si ferma solo a accompagnare pellegrini, a organizzare pellegrinaggi, a tenere bene i santuari, ma è un'opera che poi continua nel custodire le pietre vive di questa terra, che per la cristianità è santa, e le pietre vive sono i cristiani. Custodire i cristiani vuol dire accompagnare queste persone nel loro cammino di vita, di fede, in una situazione che non è mai stata molto semplice, perché queste terre, come ben sappiamo, sono attraversate da parecchie traversie e vicende storiche. Allora, in questo servizio di accompagnamento, l'opera di noi frati è quella anche di sostenere la vita normale, ma poi di venire incontro anche alle necessità di una comunità cristiana che è molto piccola, e spesso subisce i cambiamenti all'interno di questa terra, e quindi supportarla, ma incentivare anche lo sviluppo all'interno di questa comunità. Ecco, allora il mio compito all'interno dei frati toscani è quello di dirigere il commissariato di Terra Santa della Toscana, che è un appendice della custodia di Terra Santa, ovvero i frati che custodiscono laggiù. Allora, il mio compito è quello proprio di sensibilizzare, promuovere l'opera, che va supportata idealmente, quindi umanamente, va supportata con la preghiera, con la fiducia, poi va supportata, il mio lavoro è anche quello di trovare supporti materiali, a questa opera così delicata. E quindi, girando parrocchie, conoscendo persone, o realtà anche imprenditoriali, portiamo un po' e coinvolgiamo le persone in questa grande missione, che è una missione proprio a nome di tutta la cristianità, ma anche dell'umanità, perché lì c'è il cuore di fedi, in queste terre, ma anche il cuore di tante persone che amano la bellezza, amano la storia. Ecco, come frati toscani, come custodia di Terra Santa, soprattutto, da qualche anno abbiamo creato una ONG, una ONG, che si chiama Associazione Proterra Santa, che coinvolge dei laici, che ci aiutano a realizzare alcuni progetti. Allora, insieme a me stasera c'è Vincenzo Bellomo, che vive a Betlemme, e in loco porta avanti i progetti della custodia, e poi c'è anche Andrea Veduto, che dall'ufficio di Milano porta avanti la comunicazione, la progettazione, rendi contazione di questi progetti, che oggigiorno devono essere presentati anche in maniera competente. Ecco, quindi, io apro un po' questo momento, proprio con il ringraziamento, e spiegandovi un po' chi siamo in questo momento, ecco, poi con più, con una testimonianza diretta di Vincenzo, poi dopo, magari in un momento un po' più ludico, ricreativo, anche nel colloquio, se volete, veramente personale, o magari con qualche domanda, anche dopo l'intervento di Vincenzo, vi vogliamo presentare un progetto che abbiamo pensato su Betlemme. Come sapete, Betlemme è un po' un punto cruciale, lì è nato Gesù, e quindi, per chi crede, il figlio di Dio si è fatto uomo, e attorno a questo punto si sviluppa una comunità, e stiamo cercando di sviluppare dei progetti che non sono di mero assistenzialismo, ma dei progetti che rendono partecipi e protagonisti i giovani di questa comunità, quindi non solo gli adulti o gli anziani, ma soprattutto i giovani, che sono la fascia che rischia un po' di rimanere senza prospettive, in questi momenti anche un po' difficili per questa terra. L'incontro a Bagliano, la tenuta Chianti Piccini, è terminato, io riprendo gli attori che hanno fatto il percorso di questo bellissimo pomeriggio, dove abbiamo sentito il frate Matteo che ci ha raccontato quello che è il presidio del territorio dei Francescani in Toscana, su cui luoghi di Terra Santa, Martina che ha organizzato questo incontro per far conoscere tutte queste realtà, il nostro Vincenzo che è stato bravissimo a raccontarci tutto quello che accade là, con un invito pazzesco ad andare a trovarli là, anche perché praticamente nella comunicazione che noi abbiamo in Italia, come anche in altre parti del mondo, è che lì un giorno sì, un giorno no c'è dei problemi, per cui le persone non sono stimolate, però lui è stato talmente esaustivo dove ci ha rinfrancato che possiamo andare là. Allora, partiamo da Martina che è la padrona di casa. Martina, è stato un bellissimo momento, un bel pomeriggio. È stato un bellissimo momento e ringrazio chiaramente tutti, prima di tutto tra Matteo e Vincenzo perché ci hanno spiegato veramente com'è la situazione là e ci hanno invitato così come io invito tutti ad andare là, a toccare con mano una realtà che, come ho detto, è lontana, ma nei nostri fuori è molto vicina e ci riguarda tutti. E io concludo con un invito. È un momento particolare per la nostra città, per la nostra regione, sappiamo tutte le difficoltà di tutte le famiglie, però quello che invito io è che un 5x1000 comunque possiamo donarlo a chi vogliamo e io invito a donarlo a loro perché abbiamo bisogno di nuove sostanze per poi dare la possibilità anche là, come qua, a dei giovani che nonostante tutto e tutte le problematiche vogliono rimanere in una terra che è una terra santa e si chiama santa non a caso, indipendentemente dal nostro credo, ma è una terra santa perché riguarda noi, riguarda la nostra cultura, riguarda la nostra tradizione, riguarda la nostra vita. Allora Vicenzo, un bellissimo progetto, questo restauro su cui state un attimo raccogliendo anche fondi per poter terminare il lavoro, una bella operazione anche perché da quello che ci ha raccontato rispetto alle informazioni che noi abbiamo a livello giornalistico e lì convivete tutti insieme, per cui significa non è che ci sono le strade per un tipo di religione e strade per altre religioni, cioè una commissione totale. Nella quotidianità, nella vita quotidiana, la scuola, il mercato, il lavoro, le cose belle, nelle cose brutte, la condivisione è piena e quotidiana. Le notizie brutte si sanno subito, le notizie belle della maggior parte del tempo fanno fatica. Questo è un bello spot pubblicitario, mi piace, ripetilo. Le notizie brutte arrivano subito, la quotidianità bella degli incontri fa fatica a passare e quindi noi l'invito che facciamo è quello di sostenere la nostra missione come associazione Pro Terra Santa insieme alla missione dei frati di innamorarsi ancora di più di un luogo che già ci appartiene. La Terra Santa è casa nostra. A Bettilemme tutti siamo nati. Tutti siamo nati. Allora, l'ultima parola chiaramente al nostro rappresentante dei francescani. Mi sembra che è stato un pomeriggio interessante, molte cose sono venute fuori, tanti progetti, tante situazioni e allora come possiamo invitare la gente in senso lato a essere più fraterna? Allora, innanzitutto aumentando la nostra capacità di dialogo con l'altro e di accoglienza della realtà dell'altro. La fraternità è un sentire un legame che non è tanto scelto ma è una condizione. Allora, già per San Francesco questo era fondamentale. La fraternità è una chiamata a riscoprirsi con dei legami e a riuscire a fare qualcosa insieme non tanto perché ci piacciamo ma quanto perché sentiamo la bellezza di poter fare qualcosa appunto insieme. Questa bellezza, questa chiamata alla bellezza non è una scelta ma è una missione. Allora, usando una battuta che strisce la notizia da Vagliani a tutto a voi riflettere sulle cose che avete sentito sulle cose che sono state dette e riflettere poi su questo invito fatto in maniera molto specifica di Bethlehem e Gerusalemme. Grazie. Grazie. Grazie.